Facciamo una prova a microfono che ho un po' poca voce, causa allergia. Allora, dico innanzitutto che sono molto contento di essere qui questa sera per due motivi. Il primo è che anche se molti di voi magari non mi conoscono, io sono abitato a Cologno Monzese per circa vent'anni e quindi sono in un luogo a me caro dove abita ancora la mia mamma, dove è morto il mio papà cinque anni fa, che tra l'altro si chiamava come l'intestatario di questa parrocchia che se non ricordo male è San Giuseppe. Ecco allora questo è il secondo motivo per cui sono felice di essere in una chiesa che mi ricorda una delle persone da cui ho imparato, ho cominciato a imparare l'amore nella mia vita umana. Ma soprattutto sono felice di essere qui all'inizio di questo tempo di Quaresima perché questo luogo dove ho vissuto dai cinque ai venticinque anni è il luogo dove io ho perso e ritrovato tante volte la mia vita e soprattutto la mia fede. E se la Quaresima è il tempo in cui noi cristiani ritroviamo un po' la consapevolezza del nostro battesimo, della nostra vita in Cristo, ecco allora sono proprio felice di essere qui a offrire il mio contributo perché questa cosa che proviamo a fare tutte le quaresime, lucidare questo spirito che ci è stato donato perché possa innervare tutta la nostra vita, sono contento di farlo insieme a voi. Il tema che è stato scelto per questo incontro è quello dell'amore, dell'amore più grande. E quando parliamo dell'amore credo che dovremmo innanzitutto rintracciare l'amore non tanto come un comandamento anche se lo è, è un comandamento nuovo dice Gesù, ma soprattutto come il destino che da quando esistiamo, da quando siamo diventati esseri viventi ci è capitato. Dio ci ha creato e ci ha destinato a diventare amore. Lo diceva già nell'Antico Testamento tu amerai e lo ha ripetuto anche Gesù. Ecco è importante credo ricordarci che l'amore non è una cosa che ci mettiamo in testa di fare ogni tanto, poi a volte smettiamo di farla perché è troppo difficile, a volte ci fa emozionare molto l'amore, a volte ci lascia aridi come dei cocci, l'amore è il destino che tutti noi abbiamo. Noi siamo destinati a diventare simili a Dio per cui se Dio è amore anche noi diventeremo la stessa cosa. Tuttavia non è un destino meccanico, è un destino che si può compiere soltanto nella libertà. Questo è il grande problema. Noi possiamo solo liberamente diventare amore. Allora quando ci fermiamo a parlare dell'amore, a meditare e a contemplare l'amore di Cristo che ce lo ha finemente e finalmente svelato, è come se noi dobbiamo guardare il nostro destino prima di metterci subito a fare quelle domande ma quindi cosa devo fare, cosa devo cambiare, come devo migliorare. Quindi mettiamoci davanti a questa icona che abbiamo appena proclamato del Vangelo come un momento cruciale, drammatico della vita di Gesù che svela un po' anche dei nostri destini e delle nostre storie personali, anche se ciascuno di noi probabilmente sta vivendo qualcosa di un po' diverso, almeno apparentemente. All'inizio di questo racconto ci sono due precisazioni temporali, una dice prima e una dice dopo, da cui possiamo partire per riflettere sull'amore. prima della festa di Pasqua. Sapete che questo è un Vangelo molto caro a noi francescani perché San Francesco prima di morire, quando ormai era proprio agli sgoccioli, chiama i frati attorno a sé e gli chiede di leggere questo Vangelo, precisamente questo perché era per lui la memoria più viva forse dell'amore di Cristo che voleva ascoltare un'ultima volta prima di consegnare il suo corpo alla terra. Prima della festa di Pasqua Gesù fa tutta una serie di cose. Ecco, l'amore è qualcosa che si può compiere prima che tutto sia finito e questo prima è il tempo che noi stiamo vivendo. Ci sarà una festa di Pasqua anche per noi, ci sarà un momento in cui la nostra vita giungerà il compimento. Moriremo, arriveremo alla fine delle nostre traiettorie esistenziali, ma adesso siamo nel prima. Quindi è molto importante il confronto che possiamo fare con questa pagina del Vangelo, perché anche noi ci troviamo in questo momento temporale, prima della nostra Pasqua. Siccome a volte nella vita non ci sembra di non avere più niente da fare, è che siamo un po' agli sgoccioli, soprattutto quando si invecchia. Cosa vuoi fare? Faccio la pasta domani, poi vado a fare la spesa, mi addormento, vado dal medico. Invece no, c'è molto da fare prima della festa di Pasqua. Ce lo svela questo momento della vita di Gesù. Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i Suoi, li amò sino alla fine. Sapendo che era venuta l'ora. Sapete che nel Vangelo di Giovanni la questione dell'ora è molto cruciale, fin dalle nozze di Cana c'è tutto un discutere se l'ora è giunta ma deve ancora venire, non è giunta ancora la mia ora madre, non farmi fare questo miracolo che manca ancora un po' alla croce, no? Sapete che c'è tutto questo filo rosso che attraversa il Vangelo di Giovanni. E fino alla fine il mistero rimane. Cioè l'ora di amare fino alla fine. Quando è che suona? Perché qui non si dice che un angelo sia apparso a Gesù, che Gesù abbia sentito una voce dal cielo che gli diceva è l'ora. Si dice che Gesù, sapendo che era venuta la sua ora, è come se fosse una consapevolezza che Gesù ha maturato nel suo cuore e a un certo punto ha capito che quella era l'ora. Anche perché altre volte nel Vangelo leggiamo che Gesù scappava quando stavano per ammazzarlo. Quindi capite, Gesù non è che era un tipo passivo che al primo proiettile se l'è andato a prendere e ha detto va bene dai finiamola qui. No, ha vissuto finché ha potuto vivere. Però a un certo punto ha capito che quello che poteva e doveva fare era giunto al vertice, a bersaglio. Questo credo che sia molto bello coglierlo e trarne subito un riferimento anche per noi. Perché tante volte noi ci aspettiamo, io credo, qualche indicatore di troppo, anche da Dio. Come se Dio dovesse darci ancora qualche segno, no? Per fare o non fare certe cose. Mentre la vicenda di Gesù ci ricorda che quando noi siamo stati amati e abbiamo ricevuto bene il dono dell'amore di Dio, l'ora di fare della nostra vita un altrettanto dono d'amore, in qualche modo la dobbiamo scegliere noi. Cioè nessuno ci può obbligare a morire, a dare la vita. E nessuno può sceglierlo al posto nostro. Capite quanto c'è da fare prima della festa di Pasqua? C'è da decidere a chi devolvere questa cosa che ci è capitata, la vita. Che è una cosa molto grande, molto misteriosa, perché si può dare la vita in tanti modi, eh? C'è chi la dà in modo clamoroso, morendo dentro circostanze molto gravi. Pensate quante persone adesso stanno morendo, le guerre di cui sentiamo parlare. Ci sono le persone perseguitate, c'è chi sta morendo in qualche ospedale. Ci siamo noi che magari stiamo morendo lentamente. Ci sono tanti modi di giungere in prossimità o alla fine della vita. Ma mentre tutto questo ci accade, noi dobbiamo decidere nel frattempo a chi destinare quello che siamo. Non so, una persona che è in un letto di ospedale, non è che ha smesso di vivere. Quello che sta vivendo è quello che sta soffrendo. Può decidere se è soltanto qualcosa contro cui innervosirsi, arrabbiarsi. Oppure offrirlo a Dio. Oppure far diventare quel letto di ospedale un altare. Pregare per tutto il mondo. Capite? Ci abbiamo sempre dei margini di libertà. Anche in una prigione noi siamo liberi di fare tante cose. Il cardinale Van Tuan dice che proprio quando non poteva fare la messa, le eucaristie più belle sono quelle che ha celebrato con poche briciole di pane, poca acqua e poco vino. Nel palmo di una mano. Da solo. Nel buio di una cella. Gesù si trova in un momento molto particolare nel quale si rende conto che la vita sta stringendo come un imbuto davanti a Lui. Tutti lo vogliono far fuori, i discepoli sono tutti sul punto di tradire, di scappare, di rinnegare. E allora intuisce che la fine è vicina. E anche noi abbiamo queste intuizioni. Cioè noi ci accorgiamo quando le cose stanno finendo. Guardate anche soltanto a livello di chiesa, no? Non ci accorgiamo che sta finendo un'epoca. E dobbiamo decidere cosa fare come chiesa. E se stringerci così dentro i nostri locali, aspettare soltanto la morte. O vivere, celebrare quello che ci rimane tra le mani. Gesù è un uomo che sta per morire. Ma diventa il salvatore del mondo. Perché fa della sua storia, è una storia umanissima, seppur sia il figlio di Dio. Una storia d'amore. Infatti questo è quello che sceglie di fare. Sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Cosa sceglie di fare Gesù? Di amare fino alla fine. Questo credo che sia quello che questa sera possiamo contemplare. Cosa vuol dire amare fino in fondo? Perché tutti noi stiamo già amando. Le nostre vite sono già delle storie d'amore. Magari ferite, interrotte, con un po' o tanta solitudine. Ma siamo già tutti una storia d'amore. La vita che ci rimane in questo mondo ci serve per decidere in che modo portarla alla fine. in che modo finire la storia della nostra vita di amore. E c'è una cosa che leggiamo tutti gli anni, no? E su cui forse non abbiamo mai fermato la nostra attenzione. Si dice che durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto che era venuto da Dio, eccetera, eccetera. Si alza da tavola e fa la lavanda dei piedi. Dal racconto sembrerebbe che Giuda abbia già deciso di tradire Gesù. Perché il diavolo gli ha già messo nel cuore di farlo. Però poi, alla fine del racconto, avete sentito che quando Gesù dà il boccone a Giuda, allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Nasce automaticamente la domanda. Ma Satana, quando è riuscito a convincere Giuda? All'inizio o dopo il boccone? Non è una domanda cavillosa da biblista. È qualcosa di molto importante. Perché proviamo a ipotizzare che all'inizio del racconto, come dice la traduzione nelle note della Bibbia di Gerusalemme, che potrete poi controllare magari a casa, non è tanto Giuda che si è messo in testa di tradire. È il diavolo che si è messo in testa che sarà Giuda a tradire Gesù. Allora cosa vuol dire? Che quella sera, quando Gesù fa la lavanda dei piedi, Giuda non ha ancora scelto definitivamente, ci sta pensando, è tentato. Gesù se ne accorge e cerca di fare tutto il possibile per strappare Giuda da quel destino verso cui si sta incamminando. Questo ci fa ricomprendere in un modo diverso la lavanda dei piedi. Capite? Non è soltanto l'esempio che Gesù ci vuole lasciare, come per dire fate i bravi, eh, guardate, io ho fatto il bravo, adesso fatelo anche voi. Gesù sta cercando di strappare uno dei suoi migliori amici, Giuda, dalle tenebre del male, da cui è attratto, da cui è sedotto. Quindi c'è come una battaglia tra la luce e le tenebre e la persona contesa in mezzo è Giuda. Quindi è davanti a Giuda che noi dobbiamo capire cosa fa l'amore quando va fino alla fine. Cioè qual è l'amore più grande che si possa vivere. Tra l'altro che questa pagina ci dica di una sera in cui Gesù ha veramente voluto esagerare nell'amore, ce lo dicono anche i sinottici. Se voi leggete il racconto di Luca, Gesù dirà ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. E utilizza un verbo che nella lingua greca è il verbo che si usa anche per la passione amorosa tra un uomo e una donna. Gesù sta dicendo ai discepoli per me essere qui con voi è come essere in un talamo con una sposa perché io sto a perdonarvi tutto quello che ho, tutto quello che sono. Quindi siamo in un atto di amore e di grande libertà ma c'è una tentazione. Giuda è la persona che ci fa capire che noi davanti all'amore possiamo anche opporre il rifiuto. e nella vita scopriamo purtroppo dovremmo dire tutti che la cosa più difficile che Dio ci chiede di fare nell'arco della vita non è tanto amare perché in quello credo che siamo tutti stati un po' capaci di farlo ma è lasciarci amare cioè permettere all'altro di essere colui che ci dona qualcosa. quanto ci sentiamo a disagio quando siamo a mani vuote quando arriviamo a casa di qualcuno senza aver portato niente e questo anche con Dio lo facciamo questo errore c'è di pensare che noi valiamo nella misura in cui abbiamo qualcosa da dare piuttosto che qualcosa da poter ricevere che invece in realtà è l'atto d'amore più grande è permettere all'altro di fare qualcosa di buono per noi. Quando Gesù dice ai discepoli di andare ad evangelizzare gli dice non prendete niente fatevi accogliere fatevi ospitare fatevi dare da mangiare perché? perché così le persone vi faranno del bene e senza saperlo avranno obbedito a Dio avranno fatto qualcosa di buono. Questa è l'evangelizzazione secondo il Vangelo non fare del bene agli altri ma permettere agli altri di fare a noi del bene pensate un po' quanti anni ancora di cristianesimo forse dovremmo vivere per ricominciare a mettere in pratica il Vangelo in una condizione di povertà di marginalità che è quella che la storia ci sta riconsegnando forse il nostro compito primario non era tanto quello di fare del bene agli altri mettendoci in quella posizione che peraltro finisce con diventare poi un po' antipatica perché sembra che noi siamo i buoni no? e il mondo si sente sempre un po' rimproverato dalla Chiesa che poi non è così noi non vogliamo né fare i buoni ma sembra che vogliamo farlo forse sta iniziando semplicemente un nuovo tempo nel quale i discepoli di Cristo potranno insegnare al mondo non tanto come si fa ad amare ma come si fa a lasciarsi amare che è ancora più difficile che infatti è quello che non riesce a fare Giuda perché Gesù ci prova a convincerlo si inginocchia i suoi piedi e gli dice ma lasciati amare figlio mio ma lascia che questo amore ti raggiunga perché io non so che problemi aveva Giuda non lo sa nessuno ma sicuramente questo ce l'aveva perché è stato l'uomo la persona che ci ha rivelato che noi siamo capaci di chiudere la porta in faccia all'amore di Dio e di dire non mi serve cominciando a morire a uccidere noi stessi vi raccontavano che io in questa città ho perso e ritrovato la vita e la fede io mi ricordo quando ho fatto questo ho smesso di andare in parrocchia ho smesso di confessarmi di celebrare i sacramenti ma più in generale di vivere una relazione con Dio non ti accorgi subito che stai morendo te ne accorgi a poco a poco e stai morendo perché perché smetti di ricevere non semplicemente perché stai facendo degli errori dei peccati quelli li facciamo tutti e li facciamo anche a casa di Dio tra le sue braccia ma il grande peccato è voltare le spalle a Dio dire io non ho bisogno di te io ce la faccio da solo ed è questa la tenebra da cui Gesù sta cercando di strappare il suo amico Giuda ma non funziona dopo aver fatto la lavanda dei piedi si dice che fu profondamente turbato e dichiarò in verità in verità uno di voi mi tradirà e i discepoli cominciano a guardarsi è bello guardare il cuore di Gesù e pensare che è come una barca in preda a una tempesta origene commentando il Vangelo questo passo del Vangelo dice cosa avrà ascoltato il discepolo Giovanni quando ha appoggiato le orecchie sul petto di Gesù e risponde un maremoto è bello immaginare il cuore di Gesù preso da un maremoto di emozioni non sa cosa fare non sa cosa pensare proviamo a ricollegarci a quando abbiamo sperimentato anche noi il tradimento l'abbandono qualcuno che ci ha voltato le spalle quei momenti in cui qualcosa in cui avevamo profondamente creduto una persona una relazione è svanita è morta è finita non c'è dolore più grande che renderci conto che qualcosa in cui avevamo profondamente creduto non esiste più lo andiamo a cercare cerchiamo di farlo rinascere con tutte le forze ma non c'è questo è il dolore grande di tante relazioni che si rompono che finiscono che magari sono anche un po' le nostre storie ci avevamo creduto tanto in qualcuno e ora non riusciamo neanche più a guardarlo in faccia perché questo capita ed è questo capite il dolore e lo smarrimento che sente Gesù nel suo cuore la sensazione che le cose possano finire che le relazioni possano interrompersi e allora decide di fare una cosa di fare verità noi a volte quando viviamo questi passaggi abbiamo difficoltà ad andare fino alla fine nell'amore perché ci sembra di soffrire così tanto che cominciamo semplicemente a chiuderci ad arrotolarci su noi stessi oppure a sfogarci da qualche parte davanti al televisore davanti al frigorifero ognuno di noi ha i suoi luoghi di compensazione per le sofferenze che viviamo Gesù invece decide di provare a fare verità gettando la sua maschera e dicendo tutto l'amore che è disposto a vivere e infatti c'è questa scena del boccone intinge il boccone dice uno di voi mi tradirà intinge il boccone e lo dà a Giuda e Giuda esce con quel boccone ora sapete che Giovanni non racconta tecnicamente l'istituzione dell'eucaristia però possiamo immaginare che quella sera quello è avvenuto quindi è lecito pensare che quello sia il boccone eucaristico quello che prendiamo ogni domenica anche noi cioè il corpo del Signore il simbolo proprio di tutta la sua vita ora in quel boccone che Gesù dà a Giuda c'è tutta l'immagine dell'amore che noi questa sera siamo chiamati a contemplare immaginiamo di nuovo la scena un uomo ferito perché l'altro lo sta tradendo lo sta abbandonando con tutto il diritto di dire ma vai al diavolo ma fai quello che vuoi fare come facciamo tante volte noi che mettiamo una X sulle cose sulle persone e tiriamo giù la serranda e pensiamo di liquidare così le storie le relazioni che abbiamo vissuto mettendoci una pietra sopra che è impossibile perché poi tutta la nostra memoria nel frattempo ha registrato sorrisi lacrime memorie non puoi far morire niente di quello che hai vissuto invece Gesù fa un'altra cosa decide di guardare in faccia il suo amico e di consegnargli tutta la sua vita tutto il suo corpo e c'è scritta questa cosa allora dopo il boccone Satana entrò in lui quindi fino a questo momento Giuda non aveva ancora deciso decide soltanto cioè Satana era come lì in attesa non poteva entrare nel cuore di Giuda entra soltanto dopo il boccone ecco io vorrei che ci fermassimo un attimo su questa immagine perché ha da dirci credo due cose molto importanti la prima è che quello che noi chiamiamo il diavolo Satana il tentatore non è un altro Dio uguale e contrario a quello in cui noi crediamo noi non viviamo dentro un dualismo adesso non voglio fare una lezione di filosofia ma questa nota di spiritualità cristiana è profondamente importante perché io da tanti anni sono tornato nella chiesa e mi sono accorto che dentro la chiesa c'è ancora tanta paura di Dio e tanto fascino nei confronti del male mentre questo dovrebbe essere il luogo dove noi abbiamo massima fiducia in Dio e una sana indifferenza nei confronti del diavolo Dio e il diavolo non stanno sullo stesso piano sapete che questo è quello che ha fatto convertire Agostino quando ha sentito Ambrogio predicare Agostino era pieno di letture duali della realtà noi viviamo in grandi dualismi cioè noi pensiamo che ci sia il bene e il male la nostra società è piena di dualismi guardate i film e le rappresentazioni collettive questo crea molta angoscia perché se viviamo tra il bianco e il nero capite è un attimo una folata di vento che mi porta da una parte e dall'altra e io sono salvato o spacciato a seconda di come tira il vento ma se invece crediamo soltanto in Dio e temiamo il diavolo come il suo nemico noi dovremmo avere nel nostro cuore un equilibrio diverso vi ricordate la parabola della zizzania Gesù un giorno si è fermato a spiegare questa cosa perché è importante un uomo getta nel suo campo il grano buono durante la notte un nemico viene a gettare anche la zizzania quando comincia a crescere il grano i servi vedono che c'è anche la zizzania e vanno dal padrone dicendo ma come non avevi seminato del grano buono vuoi che andiamo a toglierlo a togliere la zizzania e il padrone dice no lasciate che l'uno e l'altra crescano sono due cose diverse non abbiate paura del male non dialogateci troppo non state troppo a guardarlo guardate il bene perché questo vuol dire essere credenti non far finta che il male non esiste non banalizzarlo ma tenere lo sguardo fisso sul bene perché se noi continuiamo a contemplare il bene l'amore il male c'è il male ci morde ci ferisce noi piangiamo e soffriamo come tutti anche come quelli che non credono ma se continuiamo a guardare l'amore e il bene noi continuiamo a fare il bene a fare l'amore perché quella è l'unica vita che vediamo quella è l'unica logica che ci ispira e che ci guida quindi è molto importante capite questo versetto in cui si dice che il diavolo ha un potere molto limitato rispetto a Dio noi ci crediamo persino troppo nel diavolo o comunque nel male perché la cronaca nera ha sempre così fascino anche per noi perché parliamo così tanto delle guerre del sangue che corre quando tentiamo di fare anche nei giornali parole buone notizie buone è sempre un fiasco in anticipo perché non tira la buona notizia mentre quella cattiva è così efficace è perché c'è questa sensibilità ferita in noi allora è molto importante ricordarci che c'è solo Dio il Dio della vita non c'è un altro Dio ci possono essere tante ombre tante tenebre che cercano di deviare questa luce ma questa è l'unica luce che esiste la seconda cosa che ci insegna questo passaggio del racconto è che noi possiamo essere traditi da qualcuno solo dopo che abbiamo amato fino alla fine cioè finché Gesù non porta il suo amore fino alla fine il tradimento di Giuda non può avvenire cioè noi possiamo essere traditi soltanto quando abbiamo scelto di amare completamente l'altra persona altrimenti non si può parlare ancora di vero tradimento voglio dire una persona che mi tradisce dopo che la conosco da una settimana non è un gran tradimento infatti nessuno di noi piange per un amico che ha perso dopo pochi giorni che l'aveva conosciuto non c'è una grande storia invece noi soffriamo per le relazioni che sono andate avanti molto nel tempo dove abbiamo amato tanto però è importante ricordarci che il dolore che proviamo per i nostri per i tradimenti e i fallimenti che viviamo deve farci sempre chiedere ma io ho amato fino alla fine quella persona o no perché a volte noi non siamo tanto arrabbiati perché l'altro non ci sta amando o ci sta trattando un po' male ma siamo arrabbiati con noi stessi perché non abbiamo fatto il nostro dovere fino alla fine quando noi amiamo fino alla fine comunque vada a finire la storia noi rischiamo di essere contenti quando Gesù uscirà dal sepolcro non c'ha il muso lungo vada Giuda e vada agli altri con un grande sorriso perché? perché lui ha fatto quello che voleva fare ha visto che Giuda lo voleva tradire ha detto vabbè tradiscimi io però ti amo io non smetto di amarti la cosa che volevo venire a dirvi questa sera è una è una dimensione molto bella dell'amore che l'amore è anche una faccenda unilaterale se l'altro mi ricambia oppure no a un certo punto conta relativamente io posso scegliere di rimanere fedele alla scelta d'amore che ho fatto nella vita anche se magari non mi sta arrivando indietro niente anzi proprio quello è il momento in cui l'amore diventa pieno puro quando io amo in perdita quando dall'altro non mi sta venendo indietro nulla come succede nella vita umana perché quando stiamo insieme e l'altro non ci può dare più niente anche magari perché è malato perché non parla più non stiamo vivendo questa logica quando noi scegliamo di morderci la lingua e di non ferire più l'altro perché vediamo che non è il caso non stiamo facendo la stessa cosa quando non insistiamo più con i nostri figli cercando di manipolare e forzare la loro vita perché abbiamo capito che il più grande atto d'amore che possiamo fare nei loro confronti è rispettare la loro persona e la loro libertà e avere fiducia in loro anche quando la fiducia non sembrano meritarla non stiamo facendo la stessa cosa stiamo amando in perdita solo che noi quando amiamo in perdita abbiamo soltanto la sensazione che non stiamo amando che non sta andando bene la nostra vita mentre sono i momenti in cui siamo più simili a Gesù quelli in cui dentro le viscere c'è tanta amarezza c'è tanto sconforto come nelle viscere di Cristo che quella sera non è che stava bene non è che ha fatto tutte queste cose così in allegria se ci aveva un po' di Gavis se lo prendeva anche Gesù quella sera dopo l'ultima cena per farsi andare giù tutta l'amarezza di quei bocconi amari però lo ha fatto e ci mostra ripeto almeno nella risurrezione che attraversare quei momenti così brutti dove dovremmo scappare in mille direzioni mentre si sta compiendo la nostra vita è la cosa più importante e più bella che possiamo fare perché stiamo portando il nostro amore fino alla fine infatti c'è un'ultima parola in questo confronto tra Gesù e Giuda che è quella frase celebre che adesso viene tradotta così quello che vuoi fare fallo presto qui ognuno di voi ci mediti pure fino a Pasqua perché qui c'è tutto qui c'è tutto il Vangelo in questa frase cioè Gesù si accorge che Giuda lo sta per tradire e allora la persona piena di amore ma anche intelligente qual è? cosa fa? dice a Giuda tu mi vuoi tradire? allora ti ordino io di farlo così non sei più tu che lo fai ma te lo dico io vuoi fare questa cosa? falla ti do la libertà di farla è chiaro che Gesù non sta autorizzando il male però sta prendendo la libertà di Giuda e dentro la libertà di Giuda mette la sua in modo che quando Giuda andrà a consegnare Gesù non sarà più Gesù che verrà consegnato ma è Gesù che si consegna liberamente infatti il racconto di Giovanni mostra proprio questo quando le guardie vanno nel Gezzemani a prendere Gesù Gesù dice chi cercate? e quelle cascano tutte per terra Giovanni cosa vuole dire? nessuno ha arrestato Gesù è Gesù che si è consegnato liberamente questo è l'avverbio dell'amore liberamente pensate che bel che bel digiuno quaresimale potrebbe essere scegliere di fare gli atti soltanto gli atti d'amore che siamo disposti a fare liberamente quanto rimane della nostra vita? magari un po' di meno cioè proviamo a togliere in questi giorni le cose che facciamo un po' per sforzo in vista di un risultato perché quando i nostri servizi non vengono notati o diciamo riconosciuti adeguatamente perché ci nervosiamo? perché mancava la libertà iniziale l'amore più grande quello che arriva al perdono capite? non è una scelta che dobbiamo fare alla fine quando le cose vanno male il perdono che semplicemente è la gratuità dell'amore la dobbiamo decidere all'inizio altrimenti poi non la decidiamo mai se noi non impostiamo bene il navigatore dell'amore poi ci troviamo molto in difficoltà quando i conti non tornano perché tanto i conti non tornano mai ma se noi abbiamo già deciso di lavorare in perdita di lavorare liberamente allora i conti tornano sempre perché stiamo facendo soltanto le cose che vogliamo noi fare liberamente riconoscendo l'ora in cui le cose sono da fare non sentendoci sempre obbligati da qualcuno da qualcosa forzati da leggi indicazioni che stanno attorno a noi ma diventiamo noi padroni della nostra vita e di quello che vogliamo donare tutto diventa molto più umano più semplice ma anche più vero perché l'amore perde quelle connotazioni un po' ideali con cui noi lo contempliamo tutte le volte a Quaresima e a Pasqua guardiamo questo amore grandissimo di Gesù e poi noi stiamo sempre da un'altra parte e poi noi non arriviamo mai a vivere quella misura di amore invece credo che se ci guardiamo con sincerità ci sono tanti atti d'amore che possiamo domani dopo domani e dopo domani ancora fare liberamente dobbiamo soltanto decidere mettere la firma in anticipo io faccio questa cosa a UFO non è come si dice a Milano gratis non chiedo niente per questa cosa quindi sono felice perché la faccio non perché mi verrà indietro qualcosa ed è per questo che Gesù quando esce Giuda dice ora il figlio dell'uomo è stato glorificato ora si è manifestata la gloria la gloria dell'amore cioè la sua il suo valore il suo peso specifico questo è l'amore è donare liberamente quello che siamo quando leggo Giovanni 13 mi viene sempre in mente un episodio che credo tutti conosciamo che è la morte di Don Pino Puglisi sapete che Salvatore Grigoli che uccise Don Puglisi nel vedere quest'uomo offrirgli uno sguardo che non sapremo mai ricreare noi perché l'ha visto solo lui ma è uno sguardo di perdono anticipato ha sentito una crepa nel suo cuore al punto che poi è diventato collaboratore di giustizia e ha raccontato la sua esperienza di uccidere un uomo che lo ha perdonato prima ancora che il proiettile gli arrivasse addosso che è quello che noi possiamo fare quotidianamente e facendo così non moriamo mai perché nessuno ci può uccidere niente ci può deludere nulla ci può togliere la vita guardate io non so in quanti saremo in queste chiese fra dieci vent'anni ma ottanta quaranta quattro persone l'importante è che quando il proiettile della storia arriverà da noi trovi in noi un sorriso trovi in noi persone che sono felici di vivere e di essere discepoli di Cristo altrimenti è tutto inutile altrimenti siamo pure in troppi anche adesso non è un problema di numeri la chiesa è un problema di sapere se abbiamo contemplato l'amore di Cristo e stiamo accettando di poterlo vivere anche noi cioè che anche in noi si sta ripetendo lo stesso miracolo che nessuno ci può togliere la vita noi la stiamo donando stiamo tornando al Padre e allora tantissime occasioni durante le nostre giornate diventano delle anticipazioni della festa di Pasqua una fregatura un incidente di percorso una malattia la rottura di un rapporto altrimenti tutto questo invece diventa soltanto una cronaca nera noi cristiani la cronaca nera non la conosciamo noi conosciamo la Pasqua e deve esserci anche un modo di parlare cristiano delle cose questa è la prima conversione non parlare in modo pagano delle cose che noi sappiamo nascondono l'opportunità di vivere la vita di Cristo e dovremmo aiutarci a riconoscerle quando a qualcuno di noi sta capitando Giovanni XIII sta capitando di amare fino alla fine è un amore grande quello di Cristo e quando si guarda a questo amore a un certo punto le parole devono finire come faremo anche in questo momento di meditazione e di preghiera torno all'immagine utilizzata all'inizio non stiamo parlando di qualcosa che noi dobbiamo fare è un destino a cui possiamo consegnarci a cui possiamo arrenderci però questa consegna questo abbandono fiducioso che solo noi possiamo fare è l'atto di libertà più importante più difficile che ogni anno a Quaresima cerchiamo di mettere a fuoco perché la vita ci trovi pronti la prossima volta che ci sarà chiesto di farlo è l'augurio migliore che ci possiamo scambiare in questi giorni di Quaresima e che io rivolgo a tutti voi e a ciascuno di voi e a ciascuno di voi